Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ARK vi parla e sembra che in quest'ultimissimo aggiornamento Trek abbia aggiunto una specie di mini side easter egg presente su Shinonuma e The Archon. Al momento tantissima gente su Reddit ne stava discutendo e hanno trovato un pochino la spiegazione e risoluzione di comunque un semplicissimo passaggio, una specie di nascondino di uno zombie che si trova in diverse location a cui dobbiamo sparare con un'arma specifica e poi completare un semplice passaggio per avere qualche ricompensa. Al momento tutti quanti hanno trovato la soluzione per questo side easter egg soltanto su Shinonuma. Su The Archon c'è comunque almeno uno spot di questo zombie ma non so quale sia la soluzione completa per cui io ho trovato e ho fatto la parte di Shinonuma. Per cui una volta superato il round 5 dove c'è solitamente il round speciale degli urlatori potrà capitare a inizio round che uno zombie spawni direttamente fuori dalla mappa ma si è comunque segnato nella minimappa con il radar. A seconda della location di questo zombie che sono 3 spot dobbiamo quindi sparargli con una categoria di arma specifica per appunto far partire il passaggio. Se spareremo con la categoria di arma sbagliata a questo zombie ci sarà un suono di errore e il prossimo ramo potremo quindi riprovare. Se lo zombie spawni fuori dal capanno da pesca servirà una mitaglietta io per dirò stupidamente comprate il Thompson a muro. Non avvicinatevi troppo a questo zombie sparte da lontano e se l'avete fatto correttamente verrete teletrasportati e partirà quindi un altro passaggio. Ci sarà quindi questa testa di zombie a cui sparare e 50 secondi per distruggerla. In questo passaggio con la mitaglietta ogni tanto questa sfera sparerà fuori delle piccole palline blu a cui dobbiamo sparare. Se non spariamo in tempo a queste palline falliremo il passaggio e se sbagliate questo step non potrete più rifare questo side easter egg per tutto il resto della partita. Dovrete restartare. Distrutta comunque questa pallina, attenti agli zombie perché spawnano continuamente e vi circondano, spawneranno quindi 2500 punti bonus, un max ammo e una cassa da aprire con solitamente dentro alcun equipaggiamento e un'arma potenziata almeno all'uno, altre volte al due. In questo caso mi è uscito un mp40 pacapanciato a livello 1. Per le altre location si ripete un pochino la stessa cosa, a destra della sala comunicazioni possiamo sparare lo zombie con un fucile d'assalto, nuovamente non avvicinatevi troppo, ci spariamo contro, verriamo teletrasportati e partirà un passaggio molto molto simile a quello dell'SMG. In questo caso la testa di zombie, oltre che sparare palline blu da distruggere, ogni tanto potrebbe sparare delle palline rosse a cui non dobbiamo sparare, altrimenti appunto falliremo il passaggio. Vi ricordo che comunque lo spawn di questi zombie in queste location è totalmente casuale e se c'è uno zombie in quella partita dovete restartare per fargli cambiare location. In ogni caso se gli serve un tipo di arma specifica, molto spesso lo trovate a muro o cercando nella cassa. Anche in questo caso possiamo distruggere in tempo la testa di zombie in questi 50 secondi, che otterrà relativamente essere poco tempo per certe sfide, la testa arriverà dentro la mappa, spawnerà punti bonus, max ammo e sempre la cassa con un'arma casuale. Se invece lo zombie spawnerà alla sinistra della sala comunicazione dobbiamo sparargli con un pompa e questo è letteralmente il passaggio teoricamente più difficile per quanto i pompa siano le armi migliori. Il problema principale è la gittata, perché già sparare a questo zombie nascosto dietro l'albero ogni tanto è difficile, ma il revolver ha un'ottima gittata. Il problema è il passaggio successivo di sparare alla testa, che semplicemente abbiamo in classici 50 secondi, dobbiamo sparare a questa testa, ma questa si teletrasporta in giro, che di base non è un problema estremo, ma il problema è che ogni tanto questo teletrasporto la porta lontano dalla gittata del pompa e se appunto manchiamo il bersaglio il passaggio viene fallito e non possiamo più riprovarlo. È capitato sia a me sia a tantissimi altri giocatori che ho visto, sembra che ci sia un punto specifico in cui la testa si teletrasporta, è una specie di aura rossa. Forse dovrebbe indicare che quel punto è troppo lontano e con qualunque pompa non possiamo sparargli ma dobbiamo aspettare che si teletrasporti da un'altra parte. In ogni caso se avete un pompa molto forte come il revolver ed è anche potenziato, fate un danno allucinante a questa testa. Come ho detto prima, purtroppo su Diarcon non so quali siano gli spot specifici per questi zombie e di conseguenza le loro armi, perché tutti quanti hanno trovato e completato questi passaggi su Shinonuma, io compreso. Mi è servito giusto qualche restart, anche se i primi 5 round vanno davvero molto in fretta, specialmente con l'induttore, ed è con un considistrag abbastanza carino e molto molto tranquillo. È molto strano che ci sia sempre uno zombie che spuona letteralmente fuori dalla mappa, ma appunto collegato a questo step. Le ricompense sono carine, ma nulla di così assurdo. I punti alla fine nelle mappe round non sono così fondamentali e neanche le munizioni. L'arma potenziata inoltre è giusto un buon bonus, anche perché facciamo questo passaggio i primissimi round, quindi magari a round 6 o 7 un'arma potenziata non è totalmente pessima. Quindi ragazzi, questa è la serie di strike del nascondino su Shinonuma, aggiunto su Vanguard di recente. Stranissimo che abbiano aggiunto una cosa del genere all'ultimo secondo, ma comunque molto molto apprezzata. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Ala.